Musica Sarà l'Italia e in particolare la Calabria ad ospitare la prossima edizione del Concours Mondial de Bruxelles. L'appuntamento è atteso dal 19 al 22 maggio 2022 a Redde. I 300 giudici si riuniranno per 4 giorni nel palazzetto dello Sport di Via Parigi, degustando alla cieca gli oltre 8000 vini in concorso. Un'iniziativa molto importante alla quale teniamo molto come regione, assessorato di agricoltura e assessorato del turismo, che dovrà diventare un evento per la conoscenza del nostro territorio e per la conoscenza dei vini calabresi. Non solo da parte dei giudici ma anche un evento per la nostra regione per fare attrazione, per far sì che anche i nostri giovani e i nostri conterrani siano abituati a consumare forse un po' meno superalcolici, un po' più un calice di vino. Grazie. 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 Grazie.